Il libro verrà presentato il 12 di maggio e avremo la presenza dell'ambasciatore italiano in Sudan Fabrizio Lobasso appunto perché il libro è stato tradotto sia in arabo e viene pubblicato dall'ex Università del Cairo e anche dall'Università dell'Iowa negli Stati Uniti, quindi verrà tradotto in due lingue. Ha alcuni aspetti aggiuntivi rispetto alla prima edizione, questi aspetti sono legati al DSM-5 che è il manuale diagnostico che racchiude le patologie mentali. Questo libro ha alcuni aspetti aggiuntivi come viene trattato la micro e la macronutrizione del disturbo d'ansia poi tratteremo anche nuovi aspetti fra le correlazioni fra le malattie mentali e le malattie cardiovascolari e poi abbiamo trattato anche l'aspetto innovativo, anche quello del microbiota intestinale. Sul microbiota intestinale ultimamente abbiamo fatto delle nuove ricerche e nel mio gruppo di ricerca abbiamo evidenziato una forte correlazione fra il microambiente intestinale, quindi il microbiota intestinale e l'infiammazione e la depressione. Grazie a tutti.